Michael Gugler, oggi verrebbe definito il cantante mainstream per eccellenza, con il volto da bravo ragazzo, con delle canzoni confezionate per un pubblico sofisticato, se lo odiamo. Mi piace anche questa canzone perché esalta, diciamo parla del ritorno a casa, del ritorno ai propri affetti e alle proprie cose. Per quanto sia bello un lavoro come il lavoro di un cantante, ci dirà al mondo un momento più bello è quando si rientra a casa. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti